Sì vabbè, con te, non più pazza Inter? 0-2-4-2, non più pazza Inter? L'Inter è sta roba qua, che ci piaccia o no? E a noi, anzi, che ci piaccia o no, a noi piace anche un pochino che l'Inter sia pazza e forse ci piace anche tantissimo l'inno pazza Inter che è stato bannato, no? Ma è un po' così. Detto questo, la partita di oggi è stata veramente una divisione in due cioè due partite in una, il primo tempo pessimo, pessimo a mio avviso chiaro, magari il rigore del Torino c'era, però ho trovato un po' così però abbiamo fatto veramente male, cioè, caos statico, disumano il primo tempo il secondo tempo, chiaramente, grande merito perché abbiamo recuperato abbiamo anche chiuso la partita, quattro gol, quindi chiusura anche con Lautaro fantastico, però insomma, ecco, bisognerebbe sì ritrovare un po' di equilibrio e non è che bisogna trovare l'equilibrio perché non ci piaccia che l'Inter sia pazza o perché l'Inter è pazza, questa roba qui ma perché, effettivamente, la squadra messa in campo dal primo tempo era squilibrata e che è che l'ha messa in campo? Pazza Inter? Qualche divinità che si chiama pazza? No, Conte l'ha messa in campo e una squadra, come era impostata nel primo tempo, era veramente inguardabile sembrava una squadra spaccata in due 5-0, 5 era il modulo poi che si vedeva in campo perché avevamo tre centrocampisti Vidal, Barella e Gagliardini tutti e tre che si inserivano fondamentalmente tutti e tre che andavano in avanti e c'era un buco pazzesco a centrocampo una cosa brutta anche da vedere oltre che inefficacia, ma brutta anche proprio da vedere brutta, cioè vedete nessuno in mezzo gente sulla linea del fuorigioco gente in difesa una pratica in mezzo, un buco nero una roba brutta, brutta, brutta infatti non c'era proprio gioco fluido non c'era proprio la mano mancava proprio costruzione del gioco c'erano dei palloni un po' buttati lì se si arrivava davanti per qualche fortuna si faceva magari l'azione e poi contropiede del toro a campo libero, così a caso brutto, ma brutto brutto ecco, tatticamente brutto devo dire che ecco, questa cosa di arrivare a fine in fondo di buttare il giocatore tutti quanti in avanti tutti sulla linea del fuorigioco Lukaku ha fatto cinque fuorigioco uno peggio dell'altro ma anche gli altri erano tutti quanti lì troppo schiacciati in avanti e succede che quando tu hai l'unico centrocampista che sta portando la palla che è lì sulla tre quarti con gli altri tutti davanti e se quel centrocampista non fa la giocata l'imbucata giusta e la prende il giocatore del Torino c'è la ripartenza perché poi dietro quel centrocampista lì non c'è nessuno c'è la tua difesa che è a centrocampo a marcare le punte del toro cioè è proprio brutto brutto e pauroso anche da vedere forse lì un allenatore mi mettere le mani nel capello direi no, così non può funzionare ma come minimo un centrocampista deve presidiare la posizione se scappa una mezzala l'altra mezzala magari deve stare a mezza via tra le linee non posso vedere tre centrocampisti schiacciati insieme alle due punte schiacciate con i nostri esterni larghi magari uno in difesa l'altra a mezza via e i tre dietro e in mezzo al campo ma la roba veramente scusatemi sono un po' costernato e infatti l'abbiamo prese più di qualche volta in questo modo qua una volta Gagliardini che sbaglia un passaggio e ritorna al Torino un'altra volta Sanchez e lì prendiamo il gol lì però l'avamo piazzati è una cosa un po' diversa però vabbè tutte ripartenze costanti costanti ripartenze qualche fallo fatto un po' anche per bloccare tatticamente le loro ripartenze una roba veramente brutta detto questo poi devo dire che nel secondo tempo le cose sono un po' cambiate sono cambiate perché il Torino è crollato fisicamente non avevano più cambi questi qua veramente bisogna anche dire sfortunati dispiace quando una squadra ha tutti gli infortuni possibili immaginabili non è non è bello cioè mi dispiace per il Torino è brutto perché non puoi giocare la partita che vorresti fuori tutte le punte non hai i cambi non puoi mettere nessuno hanno fatto pochissime sostituzioni quelle che hanno fatto le hanno fatte un po' forse alla fine così per disperazione ma non avevano dei titolari effettivi da poter cambiare e quindi sono crollati nel crollo loro noi siamo stati bravi e abbiamo anche avuto il tempismo giusto la fortuna giusta di trovare quel golli subito dopo il loro rigore di di crederci e di sfruttare questa loro debolezza e di schiantarli quindi molto bene questa è una cosa positiva è una virtù che abbiamo però non può essere sempre così cioè nel senso diciamo che forse questa volta abbiamo raccolto quello che altre partite abbiamo lasciato e quindi fa pari in un certo senso un po' la sorte a volte è un po' così la partita ti va anche un po' male perché prendi gol nel momento sbagliato poi o un'altra fai gol nel momento giusto ci credi basta una buona altra azione recuperi e poi hai l'entusiasmo a palla e l'altra squadra che invece magari crolla mentalmente e pure fisicamente e insomma si rimescola tutto quanto però non può essere sempre così bene salvo il risultato oggi ma ci sono troppe cose da rivedere errori individuali grandi e gravi nel primo tempo caos statico più non posso ancora una volta un Gagliardini preferito un Eriksen anche senza un Brozovic dietro e quindi senza nessuno che gestesca la palla senza un equilibrio in campo un ordine nonostante manchi Brozovic che però è importante Amen ha messo Gagliardini cioè tutta quantità in campo tutto inserimento tutta quantità e nessuno che gestisce che manovra in maniera un po' sensata il pallone e tutto quanto ed è grave ecco perché vuol dire che Conte Eriksen non lo vede proprio minimamente a costo di mandare in campo una squadra squilibrata e questo è grave anche perché poi mi fa giocare comunque Perisic che non sta brillando al netto del buon K-pass cioè il passaggio prima dell'assist di oggi che ha mandato in porta Lautaro con diciamo l'inserimento in avanti di Lukaku bellissimo quel passaggio lì però al netto di questo non è che stia brillando cioè quindi mi fa giocare sempre Perisic che non sta brillando e Eriksen invece lo catapulta in panchina anche non avendo giocatori e preferendoli Gagliardini quindi c'è proprio un'avversità secondo me più che verso Eriksen proprio un'avversità per giocatori come Eriksen ecco da parte di Conte proprio non lo vede non gli piace gli hanno anche chiesto nel pre partita se può giocare a più basso da regista ha detto assolutamente no per carità ha dato una motivazione giusta che io ho dato nel mio video su Eriksen settimana scorsa cioè il fatto che se lo metti mediano davanti alla difesa perdi la sua capacità primaria che è quella di tirare ed è verissimo però il punto è che nessuno mai menziona il ruolo di mezzo la mezzala la mezzala di qualità non è proprio vista minimamente in Italia e dai giornalisti italiani figuriamoci sono ignoranti come Verze quindi però ecco oggi poteva essere una partita anche lì infatti com'è che l'abbiamo riaperta la partita con la quantità l'abbiamo riaperta con due passaggi due giocate di classe di Sanchez la prima che arriva da Sanchez che poi va anche a chiudere il gol però con un bellissimo bellissima sponda e ultimo passaggio il famoso filtrante non l'ultimo il famoso ultimo passaggio classico del rifinitore di quello che ha la classe di quello che vede la giocata di quello che del pallone giusto col tempo giusto e poi si tramuta poi va anche a raccoglierlo in gol e poi anche la seconda giocata anche lì Sanchez in area riesce a con la sua tecnica la sua capacità palla al piede eccetera eccetera di creare un'azione interessante e poi si va nuovamente a gol due giocate due giocate non è aperto la partita non inserimenti forza fisica e gagliardini e quant'altro o o giocatori di quel genere lì due giocate di classe poi si è aperto il campo e cambiate la partita però quindi ancora una volta siamo sempre lì ecco a volte serve la quantità a volte serve la qualità e quando non riesci a darne fuori e non hai fraseggio non hai la possibilità di arrivare in maniera efficace di perforare la difesa avversaria forse servirebbe visto che ce li abbiamo i giocatori servirebbero giocatori importanti come appunto Sanchez come Sanchez che ha fatto l'errore può capitare a tutti nel primo tempo però poi in realtà ti ha risolto la partita con due o tre giocate importanti con i piedi quindi è un po' così è un po' così e ragazzi adesso tutti quanti siamo innamorati di Snyder giusto perché Snyder ci ha fatto il triplete ecco ma io me lo ricordo bene io l'ho vissuto Snyder quando giocava faceva delle partite che era assente tutto il tempo poi faceva una giocata una una è cioè una partita poi ha fatto anche delle partite ottime tutto quanto ha fatto la differenza ma ci sono delle partite dove era assente e poi faceva una giocata determinante una punizione una un filtrante un'apertura una cosa determinante gol perché ti metteva il pallone lì fine quindi ci sono questi giocatori qua e a Conte non piacciono c'è poco da fare tanto che non ha voluto un vice Brozovic perché quest'anno c'era la possibilità di andare a prendersi un vice Brozovic in estate non uno al posto di un vice c'è un doppione da tenere in panchina pronto non l'ha voluto perché ha voluto piuttosto un doppione di Nainggolan cioè Vidal e quando manca Brozovic lo vediamo perché oggi la costruzione ha lasciato veramente a desiderare eravamo nei piedi non nelle mani eravamo nei piedi di Ranocchia che due o tre errori importanti li ha fatti ecco nonostante abbia giocato discretamente comunque però quando gli altri si mettono a specchio e si chiudono bene hai bisogno di quello che illumina di quello che crea un pochino non solo che faccia il passaggio scontato e soprattutto se tu ti butti in cinque in avanti sulla linea del fuorigioco e non ci sono spazi ecco poi bisogna dire che anche oggi non abbiamo sfruttato appieno a Kimi perché il Torino a volte difendeva alto e c'era la possibilità di lanciare lui in profondità più che Lukaku che era sempre in fuorigioco che non è il suo forte spesso andare trovare il tempo il difensore e a Kimi non era mai servito in profondità ed è quella la sua forza la velocità la capacità sul lungo di essere bruciante e invece non lo serviamo mai lo serviamo sempre da sponda spalle alla porta dove va un po' più fatica deve fare il retropassaggio rischioso queste cose qua vabbè quindi ci sono ancora delle cose da secondo me da sistemare che non mi sono piaciute moltissimo però va bene il risultato cioè quello di cui abbiamo bisogno adesso onestamente molto molto cinicamente erano tre punti era ritornare in campo dopo la pausa dicendo oh sai cosa c'è facciamo tre punti intanto e ricominciamo a vincere assaporiamo la cosa magari adesso vincendo stiamo un po' più sereni perché oggi eravamo anche tesi secondo me non li ho visti proprio sgombri mentalmente no ecco come dicevo ieri li ho visti un po' più tonni che sgombri e quindi magari vincere ti aiuta ti aiuta un pochino a stare un po' più sereno a ritrovare qualche qualche certezza qualche sicurezza anche se è importante ricordo nonostante tutto adesso anche se abbiamo trovato qualche certezza magari qualche giocatore così ecco fare turn over perché vi dà le barella non possono correre sempre come pazzi come oggi ecco poi un'altra cosa e chiudiamo su questa Skriniar sono contento che sia tornato Skriniar Skriniar secondo me è un giocatore importante che è stato l'anno scorso imbastardito un po' da Conte che l'ha messo a sinistra mettendoli in difficoltà quando dovrebbe giocare a destra e questo lo dicevo all'inizio dell'anno scorso qualcuno preneva in giro no non è tanto per la difesa 3 ma non è vero sì magari non è perfetto ma può farla comunque devi metterlo nelle condizioni di ecco a destra secondo me fa bene e è come aver fatto un acquisto ci è mancato tanto Skriniar ci sei mancato perché dai equilibrio perché sei un giocatore importante perché ha una certa forza una certa tempra ha personalità è un acquisto che ci serviva soprattutto avendo tolto Godin e non avendo centrali di ruolo oltre a De Vrij voglio dire veri per quanto riguarda la nostra difesa perché Bastoni comunque uno un po' più offensivo ci mancava uno dietro che desse un po' di equilibrio quindi sono contento che sia tornato e spero che piano piano possa riprendersi tra altri tra alti e bassi ma che possa riprendersi perché è importante per il nostro equilibrio tattico perché d'altra parte c'è Achimi c'è Achimi e Achimi devi un po' coprirlo difensivamente per quello che preferirei il 3-5-2 al 3-4-1-2 perché le mezzali danno anche un po' più copertura e raddoppi in fase difensiva e avendo un Achimi o un Perisic o un Young che lascia a volte a desiderare livello difensivo non è male avere due mezzali oggi aggiungo che contro il 3-5-2 a specchio purtroppo del Torino quasi a specchio forse sarebbe stato ottimo avere un 3-4-2-1 a questo punto con Eriksen e Sanchez dietro a Lukaku perché avreste avuto così superiorità numerica a centro campo e anche aiuto sugli esterni lasciando un nostro Lukaku al centro a vedersela con l'uno contro uno con il loro centrale invece di avere due nostre due nostre punte difese così marcate da tre difensori quindi c'è sempre un raddoppio da una parte dall'altra in base a dove è la palla però vabbè dettagli andiamo alle pagelle domani ci vediamo con i giudizi più specifici più specifichi sui giocatori comunque dai l'abbiamo scampata per oggi a domani pagelle mi raccomando lasciate un like e forza Inter di